salve cari amiche e amici qui ancora una volta il vostro sante gian faccio questo video di saluti perché oggi che sono le 11 56 del mattino e che giovedì 24 dicembre l'invito a vedere il mio vine vi trovate come stagione vi voglio fare a tutte e tutti voi i miei più sentiti auguri di natale qua come vedete c'è un mio video in line beh a questa vigilia perché volevo fare un video per l'alte vigilia però in questa vigilia di natale non farò nessun altro video quindi faccio questo video per salutarvi annunciarvi che farò altri video futuro statemi bene fate un buon cenone se non l'avete già fatto abbuffatevi ma non esagerate non esagerate con l'alcol soprattutto se dovete guidare e quindi vi auguro a tutte e tutti voi in questa vigilia di natale un buon felice e prospero natale 2015 e poi vi auguro un felice anno nuovo 2016 comunque io penso che prima farò un video per augurarvi un buon anno nuovo quindi questo sarà esclusivamente un video per augurarvi un felice e prospero e buon natale 2015 speriamo che il 2016 sia migliore se non rimaniamo nel 15 ma vabbè quello un altro discorso comunque allora salute a voi buon natale questo video sarà molto breve forse lo carico full hd dal vostro sentenza grazie di seguirmi grazie di iscrivervi al mio canale grazie di guardare tutti i miei video io ho pronto ne farò altri però tornando a noi buon natale care amiche ed amici e da presto ciao il vostro sentenza